Oh, abbiamo scoperto E' questo che dovremmo riuscire ad attenzione Che cos'è quel coso? Aiaiaia GUNDOLF! Vecchio GUNDOLF! Ehi! 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 Ma poi un proglione! Non di brimo! Lei? Il nostro amico Samy's spala! Ehi! Fa il buffone! Allora? Ci siamo riuniti! Allora come andate con quello scalino? Io me lo son vista brutti un'altra volta Quale scalino? Il quarto! Il quarto! Ma ce ne erano solo tre! Ma è impossibile! Ma cosa ho visto io il quarto scalino? Bando alle zanze signor Gandolf! sbanda le sance. Lei ci deve mostrare, lei che è onnisciente, la strada per il monte e la finanza. Ah, adesso dobbiamo andare tutti insieme, ognuno deve badare alla schiena dell'altro, soprattutto la mia che una volta c'è qualche esserino qua che mi fa frurito e dovete grattarmelo per favore. Comunque, chi è che dovrà difendere me? Lei, lei, lei. E con che armi? Potrà contare sull'ascia di Gimli, sull'arco di Legola e sulla spada di Aragorn. E sulla mia testa. Siamo messi bene allora, sei anche quel coglione. Ma perché l'hai portato? Mi sta attaccato il culo. Questo bucone. Ci indichi la strada, Cando? Ce la indichi? Allora, ragazzuoli, alziamoci in piedi che vi faccio vedere. Comunque prima vuole un bel sorsetto del famoso vinicchiolo dei tre sassuoli. Prego! Eppola, ragazzuoli! Che magia! Ah, e non è ancora visto niente? Allora, la strada, indichi la strada. Che rincoglionito di un mago. E poi un tuo amico. E poi non abbiamo badato su di lui. Ehi! Ehi! Te che tu con la pastotta, strada, dov'è? 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 La strada deve essere proprio... Ma è di qua o di là! Vi faccia pensare, lei, cornuto, che non è altro, che sua moglie è la gran mignotta. Ma allora? Ehm... Dov'è? Eh, sicuramente di qua, guardi, vedi? Eh, sì, è molto sorposo, vedi, vedi? Sì, sì, è sicuro, è sicuro. Sono sicurissimo. Comunque dobbiamo stare attenti, perché questo qui, il famoso spinello magico, sta cercando il suo padrone. Sentite, Laura, l'odore che emana. L'ho trovato io, questo è solo mio. Ah, lo deve tenere, lo deve tenere ben stretto, procciazzo, lo deve far andare via. Mi raccomando! Potrà contare su di me. Perché io sono io, non lo perderà. Andiamo, andiamo. Ora andiamo. Andiamo. Ehi, patate la schiena, eh. E non la culo che c'è il pigiù, mi raccomando. Guardate anche il culo, che sè? Lo conoscete tutti, eh? Andiamo, rega, scuoli. Grazie a tutti. Ehi, c'è un qualcosa nell'area che mi turba, eh? Ho fatto una scuolezza. Ah, ecco. Ah! Io ti sparo! Ehi, sei contro uno. Se la possiamo fare. Ma torna che brutta. Ma che sei io? Ah, che brutta. Che brutta. Abbiamo perso la strada. Chi era quell'essere schifoso? Non lo so. Però era brutto. Chi è ora che ci può dire Dov'è, dov'è, dov'è il monte della finanza? Non lo so. Chi sa che ce lo potrà dire. La sei io. E tu chi sei? Sono Bebè, vero. Dov'è la strada? E tre, ci fidiamo. Grazie. Ci fidiamo. Va bene. Oh, la mani c'è. Non ne abbiamo. Non ne abbiamo. A far cura, a tranchi, a lasciati. Gravani, pepi di merda. Pepi di merda, a lasciati. Ragazzi. C'è la dea besta. La dea della testa. Che forse. Puttana. Gandolf, pieda. Pieda. Dio, Gandolf. Il bianco. Volevo chiederci il caso. E ha visto due un po' tondi. Un po' tondi. Un due. Un due? Un po' pera. Un po' pera. Un po'. Ma non tutti due. Uno un po' più a pera. L'altro? Un po' più a pera. A pera. Sono due. Tipo, 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 tipo. Due più a pezzo, lì. Quasi uguali, dai. Due. Quasi uguali. Due due. Tondi, tondi. Proprio. Cinque. Beh. Ma uno è proprio, eh. Pronto ai semi. Pronto ai semi. Ecco. Pronto ai semi. Ma è sicura? Diali, lei. Di parlo io, io, con le donne. Diciamo una cosa, una cosa assieme. Scusami. Mi stanno chiedendo una bella ragazzina. È una dia. E noi siamo tre uomini. Io, le volevo chiedere. È da tanto che noi camminiamo. E facciamo, abbiamo fatto tanta pesce. Guardi, che facce, guardi. Un pattoon pattoon. Un... Un... Un pattoon pattoon. Via, sciagurato! Ma no, dai. Via! Dai, venga, lei. Ormai mi schiacciava, c'ho. Sarà piccolo, ma, eh. Via! Oh, compagni. Finalmente siamo arrivati. La ponte. Siamo sicuri? Sì, è la ponte. È la ponte del piscinello magico. Chi lo dice? Lo dico io chi lo dice. Tupitello. Ci ha messi proprio bene. Nooo. a 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